Le regole sui salari minimi non sono uguali in tutta l'Unione Europea. Nella maggior parte dei paesi i livelli salariali sono stabiliti per legge. Nei restanti paesi i minimi sono stabiliti da accordi sindacali. Ci sono anche grandi disparità. Il salario minimo mensile è di 2.387 euro in Lussemburgo, 1.981 euro in Germania, 620 euro in Lettonia e 399 euro in Bulgaria. La nuova direttiva europea si prefigge due obiettivi. Garantire un salario minimo adeguato affinché ogni lavoratore possa avere un tenore di vita dignitoso e promuovere l'accesso alla contrattazione collettiva. Garantire un salario minimo adeguato è particolarmente importante per le lavoratrici, i migranti e le persone meno qualificate.